Medaglie e soddisfazioni per gli atleti del centro sportivo pattinaggio Campobasso impegnati domenica scorsa nel campionato regionale di corsa su strada. Sul circuito un asfalto fine dal quartiere agrario a Portodascoli. Una prova perfetta per gli atleti della categoria ragazzi 12, ragazzi e lievi tutti sul podio al termine della competizione per un totale di ben 3 titoli e 15 medaglie. Doppia medaglia argento e bronzo per Martina Palumbo e Sofia Macari nella 200 metri sprint e nella 2000 metri a punti. Sarà assorto a chiuso al terzo posto la 300 metri sprint, un secondo posto anche per Chiara Fusco nella 3000 metri a punti. Il titolo di campionista italiano è un primo meritatissimo posto per Chiara San Martino che ha dominato nella gara sprint su 400 metri. Per l'atleta Campobassana è arrivata anche una medaglia d'argento nella 5000 metri a punti. Doppia medaglia di bronzo per Valeria Pilone che ha chiuso al terzo posto sia nella velocità che nella gara lunga. Per il centro sportivo pattinaggio Campobasso ottimi risultati sono stati registrati anche nelle categorie dei più piccoli. Un oro e due argenti per Francesco Martino, primo nella 6000 metri in linea e secondo sia nella 50 metri in corsia che nella 150 metri sprint. Nella categoria esordieni oro e bronzo per Sara Di Cillo che ha vinto la 200 metri sprint ed è arrivata terza nella 50 metri in corsia. Nella stessa categoria buoni risultati anche per Marica Perugini pur non andando a medaglia. Archiviati i campionati regionali, il centro sportivo di Campobasso è già proiettato sui campionati italiani. Le competizioni tricolori su strada si terranno il 17 e il 18 maggio a Palerno Dadda per la categoria ragazzi, mentre la settimana successiva a San Benedetto del Tronto sarà lo scenario per gli allievi. In Lombardia gareggeranno Chiara Fusco e Sara Sorto, mentre nelle Marche saranno in gara Valeria Pilone e Chiara San Martino.